allora ragazzi vi portiamo un bel set base 2 completo tutto nermint tranne qualche cartina excellent che andrà cambiata poi nermint ovviamente quello sarà un upgrade finale che andrà fatto guardate questo charizard che bello al momento è un set molto molto bello da farsi abbastanza diciamo economico tra virgolette che comunque costa averlo in condizioni belle però accessibile diciamo un set che solo inglese quindi molto facile da collezionare essendo solo inglese solo in seconda ha più volo del set base guardate che bello questo pigiot vedete c'è c'è il poli c'è il raish tutte carte belle venusauro come il solito il più il più carino c'è il wingly zaptos e poi qui ci sono le rare beedrill dragonair duktrio electabuzz cangascan e mister maim continuano un po di rare qui la snorlax quanto è carino questo è veramente un set veramente veramente carino non l'abbiamo completato in poco tempo ci abbiamo messo un mesetto per per trovare le condizioni giuste qui partiamo con le uncommon già gratini exe farfetch firo grow light hunter i visaur e jinx comunque anche un common vedete che stile che hanno cadavra bellissimo cacuna l'ikidung machok tutte carte belle hanno questo set diciamo che comunque sono carte del set base qui siamo ancora le uncommon persian bellissimo date war tortolo quanto è carino perfette condizioni tra l'altro beh e qui cominciamo anche con delle common abbastanza carine qui c'è un bel charmander un bulbasaur che è veramente veramente bello ovviamente in condizioni non buone si può trovare a poco prezzo questo set tra nel charizard il resto non è molto costoso diciamo condizioni dal light play e dal good ce la fai a trovarlo qui altro po' di common eh guardate pikachu ragazzi bellissimo carta iconica del gioco da non sottovalutare il rattata uno dei pokemon più belli di sempre qui c'è uno squirtle ragazzi interessantissimo perfetto e qui passiamo con un widdle e poi ci sono tutti i trainer molto molto belli questi trainer il pokédex storico insieme al professor hock qui gli ultimi trainer con le energie grazie a tutti ragazzi speriamo che questo video vi sia piaciuto alla prossima grazie a tutti grazie a tutti